Ci sono delle situazioni di povertà, anche famiglie che si sono incomerite, evidentemente per la mancanza di lavoro o per situazioni di divisioni che si sono create e si sono accentuate e quindi questo camion frigorifero coidentato che servirà alla Caritas è veramente un aiuto che date a queste situazioni di povertà, quindi mi sono molto grato a nome loro, a nome degli insuliosi. Questa è una cosa nata, telefonando qualche mese fa al direttore di Caritas abbiamo detto cosa potremmo fare noi per agevolare la vostra attività, il vostro impegno e giustamente il direttore ha detto ma avremo bisogno di un furgone, ci siamo adoperati ed eccoci qua. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.